Per Luca, chiamare spendendo meno era complicato. A Laura, telefonava la notte, sul fisso. A Carla, di mattina, malgrado lo scatto alla risposta. Per Anna, a Miami, usava un altro telefonino. Poi è arrivata Noverka. Viva la semplicità! Mantieni il tuo numero e parli per sempre a 13 centesimi senza scatto alla risposta e senza canone. Con chi vuoi e quando vuoi. E chiami l'estero a tariffe davvero convenienti. Comodo? No? Passa a Noverka. Passa a Noverka.